buongiorno a tutti oggi vi facciamo vedere il sistema che a kodiak rs del area view allora la review si attiva con questo tasto e si identifica direttamente nella visuale del display centrale sono quattro telecamere premendo ogni angolo si va a vedere ad esempio qua siamo a destra dietro sinistra e fronte strada per poter manovrare la vettura non solo ma possiamo andare a vedere e visualizzare la telecamera sia anteriormente sia guardando proprio a destra e a sinistra sia dall'alto sostanzialmente a seconda della visualizzazione noi vogliamo questo lo vediamo anche nella parte posteriore dove possiamo andare a identificare i veicoli posteriori e andare a vedere lo spazio che ci sarà della manovra nella parte posteriore andando a poter localizzare dove c'è un posto per poter parcheggiare vedete questo caso identifica che non c'è spazio qui vediamo la parte posteriore dell'auto con questo attiviamo appunto l'uscita da un parcheggio per cui vediamo che dietro sia a sinistra che a destra non sopraggiungono veicoli di lato abbiamo la possibilità di vedere anche qua le due fiancate della macchina sia a destra che a sinistra oppure appunto i due lati della macchina questo è uno dei dispositivi appunto che può avere kodiak attraverso un accessorio grazie a tutti buona visione e vi aspettiamo da tuscania auto